Siamo a Porta Inglese al Natlab con il curatore Leonardo Forbiccioni. Di che cosa si tratta? Che cos'è il Natlab? Allora, il Natlab è il laboratorio, il museo del naturalista, nato nel maggio, inaugurato nel maggio del 2019. E che cos'è? È sostanzialmente un punto di riferimento per chiunque voglia interessarsi o comunque abbia una particolare sensibilità verso quelle che sono le scienze naturali. E quindi a chi si rivolge? Si rivolge agli studenti, si rivolge soprattutto alle giovani generazioni, alle scuole. Qua dentro si fa ricerca a tutti i livelli però, cioè in che senso? Nel senso che qua possono fare attività di studio, sia i ragazzi bambini dell'elementare fino ai ragazzi del liceo e anche gli studenti universitari con tirocini o tesi di laurea. Che cosa troviamo nel Natlab? Quali specie ci sono e quali anche più caratteristiche? Allora, al Natlab è raccolta e conservata la mia collezione. È una collezione entomologica che è rappresentativa di gran parte di quella che è l'entomofauna, ovvero la fauna di artropodi in generale, di insetti in particolare, delle isole dell'arcipelago toscano, che è frutto di una ventennale mia ricerca personale durante quest'arco di tempo. Ci stanno effettivamente specie molto particolari e caratteristiche che vivono solo nelle varie isole dell'arcipelago ed alcune addirittura sono individuate e rinvenibili solo in alcune zone di una particolare isola, che so la Meira, ovvero il simbolo del Natlab, che è la Meira tedesca, è questo piccolissimo coleotterino che vive nel detrito vegetale che si trova solo ed esclusivamente in tutto il mondo sul Monte Calamita. Abbiamo visto che è composto di tante stanze, tanti locali, tante attrezzature, quindi che attività possono fare le scolaresche che vengono qui, gli studenti che vengono qui? Allora, gli studenti che vengono qui, a secondo del loro grado di preparazione, possono effettuare, innanzitutto, una prima infarinatura a quelle che sono le scienze naturali, riuscire a toccare con mano realmente, avere un approccio diretto con il contatto proprio con l'animale, vederlo fisicamente, poterne studiare le parti, osservarlo, capire di che cosa si tratta. Possono fare, appunto, vari tipi di laboratorio, sia all'interno che all'esterno della struttura, con esperienze, appunto, dirette, dove io metto a disposizione quella che è la mia esperienza fino ad ora in questo campo. Ci è sembrato di capire, però, che Leonardo Forbicioni non si ferma perché continua le sue uscite per, si spera, nuove scoperte. Assolutamente sì, siamo insieme alla mia associazione, della quale sono vicepresidente, la World Biodiversity Association. Stiamo portando avanti un progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e dal Parco Nazionale, una ricerca su quelli che sono gli impollinatori dell'arcipelago toscano, e quindi api, farfalle, coleotteri e tutta quella microfauna che contribuisce, appunto, a quell'importantissimo servizio ecosistemico che è l'impollinazione. Quindi un lavoro anche che va nella direzione, essendo anche in questo posto, della salvaguardia della biodiversità. Assolutamente, della salvaguardia, ma in primis, io, prima di parlare di salvaguardia, mi piace sempre ricordare che per tutelare o salvaguardare un aspetto, un qualsiasi aspetto della biodiversità, noi prima dobbiamo conoscere che cosa c'è in un territorio. Se non si conosce, non si può proteggere. E l'importanza anche delle collezioni, a partire da quelle antichissime fino a quelle che faremo domani, sono importanti per gli anni che verranno. Cioè io, tra 50 anni, potrò sapere se all'isola d'Elbo o in una qualsiasi altra isola dell'arcipelago quella specie, 50 anni prima, era presente o meno. Se io quel dato non l'ho, non potrò mai fare questo confronto e non saprò mai che cosa c'era e che cosa non c'è più.